Ciao ragazzi, ci siamo, la diretta è iniziata, stiamo controllando che tutto funzioni come dovrebbe e sembra di sì, dovreste quindi sentire la mia voce, vedere la schermata stiamo per iniziare, quindi mandarmi gli ok, vedo già gli ok di Dennis, Franco, Edo, Vanni, Michele, Olivio, Giuseppe, Ivano, Marco, Benedetto, Michele di nuovo, un altro Michele, Fabio e tutti quanti gli altri, grazie, grazie infinite, allora direi che ci siamo, possiamo cominciare anche questa diretta pre-natalizia, ormai è il caso di dire, quindi eccoci qua. Ciao, bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina ad una delle nostre dirette del mercoledì, oggi è mercoledì 22 dicembre 2021 e sono le 18 ora in cui facciamo la nostra diretta. Bene, quindi questa è la nostra diretta pre-natalizia per cui poi ci facciamo gli auguri con gli amici che saranno qui con me in chat e adesso diamo un'occhiata alle nostre cose, facciamo una prima parte del nostro corso, qualche domanda e poi ci passiamo agli auguri. Beh, innanzitutto fatemi dire questo per gli amici di Maggiolina, quindi tutti i nostri amici di Maggiolina, per questa sera è organizzata una videoconferenza qui all'interno del sito, si preme qui e facciamo una conferenza dove ci vediamo a video, tutti gli anni la facciamo per farci gli auguri, per farci gli auguri e per fare agli auguri ad altri amici a casa che magari non possono collegarsi in quel momento lì e quindi un'occasione diciamo per stare in compagnia. Negli anni passati era bello incontrarsi di persona in qualche città, Milano-Venezia, ma Milano era una delle città più gettonate e quest'anno non è possibile, lo faremo non appena sarà possibile fare questo, intanto ci godiamo la videoconferenza e possiamo raggiungere un po' tutti. Va bene e quindi alle 21 da qui si entra, questo video serve per dare un'occhiata se non sono tanto pratico con le videoconferenze, se non mi ricordo come si fa, se non l'ho mai fatta sarò capace o non sarò capace, qui si può premere e vedere un attimo un paio di istruzioni specifiche per sapere come fare questa videoconferenza che stiamo per fare questa sera, ma anche quelle eventuali che durante il periodo natalizio potremmo trovarci a fare con amici e parenti magari più lontani, quindi per darci un'idea su quello che facciamo, su come lo facciamo. Qui in fondo c'è comunque anche questo l'ingresso, quindi anche qui si può entrare in videoconferenza, ma di quello parleremo questa sera, poi ci vedremo lì questa sera. Allora oggi approfondiamo, non ho ancora fatto la copertina dell'approfondimento giusto, ma approfondiamo questi due video, il 15 salvare nella cartella giusta e il 16 la cartella download che sono usciti appunto lunedì e martedì. Quindi giriamo ancora un po' attorno a questo argomento cartelle perché ci sono un sacco di cose da dire e quindi facciamo questo approfondimento. Saluto e ringrazio Enzo, ciao Enzo, grazie, 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 grazie per il super sticker. Qualcuno mi chiedeva la differenza tra super chat e super sticker? È solo nella forma, la super chat è un messaggio che si invia, il super sticker è un'immaginina in movimento, un'immaginetta in movimento, un GIF probabilmente, che permette di mandare un messaggio con simpatia, ma lo scopo è quello del sostegno e lo raggiungono entrambi i sistemi. Grazie, grazie infinite ancora Enzo e a tutti gli amici abbonati, a tutti gli amici che ci sostengono sempre, grazie infinite. Allora, dunque, io devo guardare la qualità intanto del video che va bene. Ok, passiamo subito ai nostri discorsi, la cartella download e come salvare nella cartella giusta. Allora, ragioniamo sulle cartelle, adesso abbiamo imparato cosa sono, come funzionano, perché salvo in questa, nell'altra, eccetera. Ma è obbligatorio salvare i documenti in documenti, le immagini in immagini, i video, eccetera? Nel senso che io sono obbligato a mettere le cose lì. Non potrei creare una cartella qui sul desktop, creare una cartella nel disco C, creare una cartella da un'altra parte e tenere lì tutte le mie cose. Sì, potrei farlo, tecnicamente potrei farlo e in passato si faceva anche perché non c'erano queste cartelle. Facciamo un esempio rapidissimo. Sul desktop voglio fare una cartella con i miei preventivi. Quindi tasto destro sul desktop in un punto vuoto, nuovo e poi scelgo cartella. E qui scrivo preventivi e ci sono. Qui ho salvato i miei preventivi. Poi facciamo le ricette, tasto destro, nuova cartella, dove? Nuovo, cartella, ricette, eccetera, eccetera. E un po' alla volta riempio tutto quanto il mio computer di cose qui. Allora queste, tecnicamente, si può fare. Questa cosa qui di riempire il desktop di cartelle o di file non è una buona idea in generale. Ne parleremo appositamente proprio nel prossimo video che affronteremo su questo argomento. Perché qui sono molto vulnerabili. È facile cancellarle accidentalmente. Io mi ricordo ancora quando uno dei miei figli era piccolo e che arrivava appena appena al tavolo e arrivava camminettando. Ha fatto così e ha cancellato metà icone del desktop sulla... perché ha preso la tastiera del computer. Se provi a farlo apposta non ci riesci, ma in quel caso è funzionato. Per fortuna non erano documenti, non erano cose, eccetera, eccetera. Va bene che c'è il cestino, ma non fidiamoci mai troppo. Quindi qui sono comode, ma sono a rischio. Non solo per quel caso lì, ma in generale quando ai corsi vi vedo, ma è sparito questo, è sparito quello, e perché erano sul desktop. Ok? Quindi quello no per questo motivo, ma anche per un altro motivo che andiamo a vedere. L'altro sistema è quello di dirsi, senti, io vado in Esplora File e nel mio disco C, quindi io ho il disco C dove ci sono un po' tutte quante le cose, dove adesso questo PC e nel mio disco C io mi vado a creare una mia cartella. Anche qui faccio nuova cartella e la chiamo, non so, preventivi Daniele. E le mie cose le metto lì e le ricette le metto lì, eccetera. Posso farlo. Si faceva in passato. Qual è il problema di utilizzare un sistema di questo genere? Che se io un giorno devo portare il computer dal tecnico o se io stesso devo lavorare sul computer perché si è danneggiato, lo devo far funzionare bene, lo devo formatare, lo devo pulire, io devo prima di pulirlo mettere in salvo tutti quanti i miei documenti. Intanto saluto e ringrazio Augusto. Ciao Augusto, ciao ciao, grazie infinite della super chat, del super sticker. E quindi se io devo mettere in salvo i miei preventivi, i miei documenti, devo andare a prendere questa cartella qui, devo andare a prendere quella cartella là, devo andare a prendere questa cartella qui, devo andare a prendere, che so, questa cartella qui che infatti nel mio caso mi è importante, eccetera. E quando è ora mi dimentico, una me la dimentico, sono troppe sparse in giro. Una me la dimentico sicuramente, se non due, se non tre. E quando le ho dimenticate poi addio. Ho pulito il computer, la cartella non c'è più, eccetera. Quindi spargere cose in giro nel computer non è una buona cosa. Sarebbe meglio a quel punto creare un'unica cartella principale, sarebbe meglio, ma non si fa lo stesso, comunque tutt'al più sarebbe meglio creare un'unica cartella, quindi nuovo cartella, che chiamo Daniele oppure Daniele Documenti, documenti personali o Daniele Documenti, e raggruppare tutte le altre cartelle in quella cartella lì, e quindi vado a prendere anche i preventivi Daniele, metto tutto dentro lì e poi questa la metto da qualche parte. Posso anche metterla nel disco C, di modo che quando devo fare un lavoro, io posso salvare questa cartella, prendere questa cartella, metterla su un disco esterno, metterla su una pennetta, metterla da qualche altra parte e sono a posto, perché tutti i miei documenti sono lì e non devo preoccuparmi di dov'è questo, di dov'è quell'altro eccetera. Certo, se cancello questa cartella accidentalmente li cancello tutti, però insomma un po' di attenzione ce la devo avere. Ecco, però perché non si fa così lo stesso? Perché c'è la cartella documenti, download immagini eccetera? Allora sono stati i programmatori di Windows che a un certo punto hanno detto, si è cominciato con documenti, a un certo punto proprio perché le persone salvavano tutto quanto in giro, hanno detto, senti ma facciamo una cartella documenti e la mettiamo qui sul desktop, ora sul desktop non c'è più, però c'era la cartella documenti lì sul desktop e tu salvavi tutte le tue cose lì dentro, ma come idea per dire, ah così raccogliamo tutto lì e siamo a posto. Poi in un secondo momento il computer si è evoluto e quindi tutti quanti hanno cominciato ad avere delle immagini e i video e la musica eccetera. Quindi mettere tutto insieme, documenti, video, immagini, musica diventa troppo un miscuglio e quindi ci hanno dato documenti, immagini, adesso io musica e le altre, eccola qua, download, musica, oggetti 3D, adesso c'è oggetti 3D, video eccetera, perché tu puoi separare le tue cose e metterle lì. E tra l'altro queste cartelle, dato che sono di sistema, non sono facili da cancellare. Se io voglio fare tasto destro e eliminare la cartella documenti, non si elimina, proprio perché così è più sicuro. Voglio provare, se vado in, dunque, questo pc, no, accesso rapido, qui c'è la cartella documenti, se io ci premo sopra, elimina non c'è, proprio per evitarmi di perdere le mie cose. Quindi questa diventa una cosa sicura. Un altro motivo per cui si utilizza questo sistema è questo, cioè si mettono i documenti nei documenti, la musica nella musica, i video nei video, eccetera, è questo. Quando tu porti a riparare il computer, tu porti a riparare il computer e magari non hai avuto modo di salvare i tuoi documenti, perché, che so, io questa sera uso il computer, faccio tutte le mie cose e domani mattina non si accende più. Capita, è capitato a mio figlio 15 giorni fa e il suo computer non si accende più e non si è più acceso, non si è mai più acceso. Zero, morto, tra virgolette, ma in realtà non è perso tutto, perché i suoi documenti sono ancora all'interno del disco fisso, a meno che non si sia fulminato, bruciato tutto, ma non credo, ci sono ancora lì. E quindi cosa si fa? Lo si porta a riparare, se proprio non si accende non c'è nessuna possibilità, se non so cosa fare lo porto a riparare. Però io temo di perdere tutti quanti i miei documenti, quindi o dico al tecnico, guarda per favore, cerca di salvarmi i miei documenti, oppure i tecnici più bravi ci arrivano da soli. Se nella riparazione del computer hanno bisogno di svuotarlo, cancellarlo e fare tutto, perché magari cambiano solo un pezzo e il computer torna a accendersi e tu sei a posto, ma magari invece non c'è più Windows, non funziona più, eccetera. Comunque quando vai dal tecnico, di solito prima di svuotarti tutto, se è un attimo di cuore, prende le cartelle documenti, la cartella download, le musica, eccetera, e le mette da una parte. Ripara il computer e poi ti rimette su le tue cartelle, cosicché ti trovi il tuo computer riparato con anche i tuoi documenti. Però il tecnico, quando è lì che fa il lavoro, magari lo fa fuori orario, che so, lo fa alle 10 di sera o magari lo fa in un altro momento, non è che sta lì a chiederti, ma senti dov'è che ha i tuoi documenti, poi tu non lo sai, gli spieghi, gli dici, non finirebbe mai più il lavoro. Quando è lui che lo fa in laboratorio, se gli va bene, prende le cartelle, le mette da una parte e poi te le rimette su. Quindi lui non sa dove tu tieni i tuoi documenti. Se tu li hai sparsi in giro nella cartella del disco C, dove? Disco locale C, ce l'abbiamo ancora qui, dove? Che l'avevo? Daniele documenti. Ma che ne sa lui che tu quella cartella ce l'hai lì? E poi questa è anche chiara, Daniele documenti, ci si può arrivare, ma ci sono persone che salvano sparso e senza un significato vero. Quindi non ti aspettare che il tecnico salvi le tue cose se non sono in un posto chiaro e universale. Se sono dentro documenti, download, download no, perché abbiamo visto nell'altro video che non ha tanto senso, download e un temporaneo. Ma documenti, immagini, musica e video, vabbè, da tecnico posso dare un'occhiata. Faccio così, vedo se c'è della roba, la butto su una pennetta. Faccio così, vedo se c'è della roba, la butto su una pennetta. In questo caso non c'è dentro niente, non devo neanche fare quel lavoro lì. Musica ce n'è? No, a posto. Quindi prendo i documenti, li mando su una pennetta e siamo a posto. E quindi salvo le cose. Intanto saluto Aldo. Ciao Aldo e grazie infinite per l'uso della super chat. Grazie, grazie, grazie. Vedo che avete già messo tanti mi piace. Grazie ragazzi. Se vi piace, premete sul mi piace. Se non siete iscritti al canale, sotto c'è il pulsante iscriviti. Si può premere, attivare la campanella, così venite avvisati all'uscita del prossimo video. E agli amici che vogliono abbonarsi o vogliono sapere che cos'è l'abbonamento, che cosa fa, eccetera, sotto c'è il pulsante abbonati. Basta premere per avere tutte le informazioni. Poi una persona deciderà liberamente. Però non è che premo e mi abbono, no. Premo e scopro di cosa si tratta e poi vado avanti. Quindi tornando a noi, è una buona pratica salvare i propri documenti nelle cartelle standard perché, uno, sono più sicure, non si cancellano automaticamente, eccetera, eccetera. Due, in caso di emergenza, chiunque ci vada a mettere le mani come tecnico o anche l'amico che fa questo lavoro, o un minimo di sensibilità ce l'ha sicuramente per salvarvi le vostre cose. E quindi quello lo può fare senza anche chiedervi niente. Le salva, poi magari non mi interessavano neanche, però l'ha messo lì. Se invece avete fatto di organizzazione vostra, è quella che nessuno sa come può essere perché non potete pretendere che vi riparino il computer in presenza perché ce ne sono già tanti. È già tanto trovarlo il tecnico adesso che vi faccia il lavoro. Quindi questo è un discorso. Allora, poi facciamo un altro paio di discorsi che mi avete chiesto e poi andiamo avanti. Allora, intanto vado in questo PC, disco C, a cancellare questa cartella, Daniele documenti perché non voglio fare pasticci, elimina, così lei se ne va. E poi svuoto anche il cestino, così siamo a posto. Svuota il cestino, il cestino è fatto. Poi un'altra cosa che si diceva, vediamo, era questa. Allora, due discorsi ancora. Se nel mio computer ho il disco C, quindi se io vado in questo PC e nel mio computer ho il disco C e il disco D. Questo però non vale. Questo è un lettore DVD, non ha senso. Ma se nel mio computer ho due dischi fisici diversi tra loro, questo lo vediamo in Windows 11. Io ho il mio computer con Windows 11 che è questo. Questo è il mio Windows 11. Se vado in Explora File, si è aperta dall'altra parte, eccola qua. Io ho diversi dischi. Il disco C e il disco D. Vabbè, poi anche gli altri, ma lasciamo stare gli altri. Il disco C e il disco D sono due dischi. Nel mio computer ce ne sono due. Uno per Windows super veloce e uno per tutte le altre cose. Dato che il disco C è quello che deve essere vuoto, non deve essere pieno oltre i tre quarti, perché se il computer è pieno oltre i tre quarti comincia a funzionare male, lento, e magari io ho un altro disco, potrei dire al computer che documenti, immagini e video non li voglio nel disco C, li voglio nel disco D, perché così risparmio spazio dal disco C. L'archiviazione va sul disco D. E tra l'altro sono ancora più al sicuro. In caso di formattazione e ripristino del computer, il mio disco D è più al sicuro, perché si lavora sul disco C. E quindi se qualcosa succede che va pulito, e va pulito il disco C, ma i miei documenti, le mie immagini, i miei video sono sul disco D. Quindi è più sicura questa cosa. Intanto saluto Ernesto. Ciao Ernesto e grazie infinite per l'uso della super chat. Quindi quelle persone possono andare a modificare la posizione del disco C e del disco D. Lo vediamo velocemente, perché l'ho fatto in un video apposito. Ciao, è un genio. Ciao, ciao. Ti ho appena risposto alla tua email, dovresti trovare la mia risposta. Grazie, grazie infinite per l'uso della super chat. Grazie infinite. Super sticker. E quindi se ho la possibilità, lo vado a fare. Vediamo come velocemente. Allora, torno nel mio Windows 10, che è questo. Eccolo qua. Allora, qui non ho speranza, perché il disco C è uno solo, non potrei farlo. Ma se volessi farlo, come dovrei farlo? Allora, qui dove sono, io sono in questo PC. Qui ci sono documenti, download, immagini, eccetera. Anche download si può spostare. Quindi queste cartelle qua, tranne desktop, non lo farei, perché il desktop, a questa cartella dedicheremo un video apposito, il desktop è proprio questo. E di quello ne parliamo in un altro momento. Si può fare, magari non lo so, ma non lo farei comunque. Ma documenti, sì. Io nel mio personale l'ho fatto. Cambio la posizione. Quindi faccio tasto destro del mouse su documenti, vado in proprietà e poi, vediamo se trovo il punto giusto qui, dove c'è percorso, vedo la posizione del mio disco. Il mio disco è in questa posizione. Disco C, user, asma, documenti, ok, eccetera. E di tutta questa cosa qui mi interesso poco. L'unica cosa che mi interessa è il disco C. Quindi se io voglio spostare i miei documenti dal disco C al disco D per risparmiare spazio, sul mio C, magari il mio computer è quasi pieno e ho un disco D vuoto, allora vengo qui, cancello il C e metto il D, facendo attenzione, perché se sbaglio qualcosa poi faccio dei pasticci. Ma se io sbaglio qualcosa, caspita, ho sbagliato qualcosa, premo su annulla, annullo, non succede niente, torno in documenti, tasto destro, proprietà, di nuovo, percorso e poi mi posiziono nuovamente con attenzione, cancello la C e metto la D. Attenzione, i due punti, il trattino, dobbiamo togliere solo la C e mettere solo la D. Poi dopo di che dico, ok, adesso io non posso farlo perché il disco D non c'è e quindi non funzionerebbe, e il computer provvede a trasferire tutto quanto sul disco D, compresi i documenti esistenti. Me lo chiede, mi chiede, ma vuoi trasferire i documenti esistenti di là? Gli devo dire di sì, perché altrimenti quelli li lascio lì e faccio un pasticcio. E questa cosa la faccio per il disco C, lo faccio per documenti, per download, per immagini, per tutte queste cose qua. Ne abbiamo parlato in un video e se devi farlo, prima di farlo, guardati anche quel video lì, perché è un video dedicato solo a quello e quindi magari ci sono dei dettagli che adesso non dico, un po' perché non mi vengono in mente, un po' per non fare un video di due ore. Allora, andiamo a cercare il video, vediamo se nel nostro motore di ricerca del sito lo troviamo. Allora, spostare documenti, vediamo, spostare documenti, cerca video, chissà se la dicitura è giusta. Eccolo qua, spostare documenti, immagini, video su D. Video numero 145, serie blu sempre. Vale per chi ha un disco D fisico diverso. Dobbiamo un attimo saperlo, ma se un pochino, un pochino siamo, diciamo, addentro nel nostro computer, non dico i principianti, intanto i principianti cominciano a sentirlo, però altri potrebbero ragionarci su questa cosa e andare a farlo. Guardo il video e poi mi rendo conto. Quindi questa è una cosa che farei. Poi vedo che ci sono delle domande in merito, spero di fare in tempo rispondere. Ho ancora le altre risposte della chat da sistemare, arrivo, ho già letto un po' di cose e un po' alla volta arriviamo. Sono al momento sommerso da email, non sto riuscendo a leggerle tutte quante, ma ci proveremo. Adesso arrivano un sacco di auguri, quindi sarà un periodo impegnativo per le email. Allora, altra cosa che mi avete chiesto in chat, inerente a questo argomento di approfondimento, e quindi lo approfondiamo, è la cartella download. Allora, nel video di ieri abbiamo parlato della cartella download, a cosa serve, eccetera. Questa contiene i file che scarico da internet. È più giusto dire, contiene i file che i miei browser scaricano da internet. Quindi se io navigo con Chrome, eccomi qua, premo su Chrome, navigo su Chrome, quando io scarico un file va a finire automaticamente in download. Proviamo. Sito amici di Maggiolina, un corso qualsiasi, prendiamo il corso computer, no, prendiamo, vediamo se c'era qualcosa di diverso dal solito, grafica vettoriale con Inkscape. Scarico gli esercizi, premo su scarica gli esercizi, poi questi sono gli esercizi, non sono tanti, ne scarico uno. Tasto destro, scarico, questo arriva attraverso internet nel mio computer e va automaticamente a finire in documenti, in download. Se io vado in esplora file, download, trovo il mio file. Lasciamo stare adesso l'icona che dice ma sembra Edge, è un altro discorso. Questo è il mio file ed è arrivato nel mio computer. Perfetto. In download automaticamente. E qualcuno mi diceva prima in chat, ma da me non va in download, va da un'altra parte, perché io posso regolare la cartella di download. La cartella di download di solito è download, scaricati, è fatta apposta, ma io magari ho un'organizzazione mia e la voglio mettere da un'altra parte. Posso fare questo? Sì, posso fare questo. Allora facciamo questo ragionamento. Allora io mi creo una cartella, vado in esplora file, vado in documenti e mi creo una cartella esercizi maggiolina. Quindi faccio nuova cartella esercizi maggiolina. Ok, benissimo. Poi voglio fare in modo che il mio browser Google Chrome scarichi tutti i file in esercizi maggiolina. Perché io mi dico sai cosa? Io uso Chrome per andare a vedere i video, le cose di maggiolina e uso Edge per qualcosa d'altro. Quindi due browser diversi. Comunque voglio che il mio Chrome da adesso in poi scarichi i file dentro esercizi maggiolina. Qualsiasi. Non è che se scarico gli esercizi vanno in esercizi. Qualsiasi cosa io scarichi va a finire in esercizi maggiolina. Se faccio questa impostazione vado qui sui tre pallini, quindi tre pallini, impostazioni, questo e adesso andiamo a cercare il download. Non mi ricordo mai dov'è anche perché queste cose si cambiano nel tempo e quindi mi guardo attorno. Vediamo se mi può venire in mente qualcosa. Qua non vedo niente. vado in avanzate. Download. Eccolo qua. Download. Premo e la cartella download è questa. C user asma download. No? La cambio. Dico cambia e poi vado a sceglierla. Vado in documenti e dico esercizi maggiolina. Eccola qua. E seleziono questa cartella. Quindi c user asma documenti ok esercizi maggiolina. Quindi io ho scelto la mia cartella esercizi maggiolina e lui si è preoccupato di sapere dov'era. Di sapere tutto il percorso tecnico del computer per sapere dov'è questa cartella. Perfetto. Quindi da adesso in poi quando io scarico un esercizio quindi proviamo questo. Tasto destro. Scarica. Il mio browser fa la stessa cosa. Lo scarica. Eccolo qui. Però è andato in un posto diverso. Allora noi abbiamo scaricato il numero 6. Se vado in esplora file. Download. C'è il numero 5. C'è quello di prima. Se voglio il numero 6 devo andare in documenti. Esercizi maggiolina. E dentro c'è biglietto da visita 6. Quindi da adesso in poi il mio browser scarica tutti in esercizi maggiolina. Perché l'ho impostato così. Però solo Chrome. Perché io questo lavoro l'ho fatto solo su Google Chrome. Se nel mio computer ho anche Edge. Edge continua a fare come prima scarica nella cartella download. Perché di standard si scarica nella cartella download. Anche lui potrebbe essere impostato per scaricare in esercizi maggiolina. Ma devo essere io a fare questa operazione. E quindi così ci siamo. Poi vediamo un altro discorso. Se io guardo le impostazioni qui. Allora lo chiudo così lo rivediamo. Sono su Google Chrome. Una pagina qualsiasi non importa. Tre pallini. Impostazioni. Eccolo qua. Cerco avanzate. Adesso mi ricordo. Altrimenti guarderei come ho fatto prima. Avanzate. Download. Allora questa abbiamo detto che l'ho cambiata. Però voglio rimettere tutto a posto. Tutto sommato mi piace avere il download al posto giusto. Allora faccio su cambia. E vado a scegliere download. Download. E poi seleziono la cartella. Qui c'è C user asma download. Tutto a posto. Se io la cartella download, tornando al discorso di prima, l'avessi spostata sul disco D lui qui da solo lo trovavo aggiornato. Perché Windows sistema tutte le cose quando faccio l'operazione di prima. E adesso ho rimesso tutto a posto. Il mio computer, il mio browser Google Chrome salva nella cartella download come deve essere. Però dopo aver visto il video questo. Dov'è? Questo qui della cartella download. Dov'è che ce l'abbiamo qua? Eccolo qua. Quindi vi invito a dare un'occhiata. Ho visto che scarico tutto in download e poi devo smistare questo. Le buste paga le metto di qua. Le fatture le metto di là. I manuali le metto di qui. La roba che non mi interessa più di tanto la butto via. Eccetera. Quindi mi obbligo a fare un lavoro posteriore. Nel senso che aspetta, devo scaricare una ricevuta di un pagamento online che ho fatto. Lo devo scaricare in download. Poi devo andarlo a prendere e poi dopo devo andarlo a mettere dalle altre parti. Ma io non posso scaricare ogni cosa anziché in download direttamente al posto giusto. Ho imparato come funzionano le cartelle. Faccio il lavoro una volta sola. Scarico già nella cartella giusta. Sì, posso fare questo. E lo vediamo qua in impostazioni. Chiudo così rifacciamo. Tre pallini nel mio browser. E funziona solo per il browser in cui faccio questa impostazione. Gli altri eventuali browser continuano a funzionare con la cartella download. Quindi tre pallini. Impostazioni. Come prima avanzate. E poi come prima download. Questa volta accendo questa voce. Chiedi dove salvare il file prima di scaricarlo. Chiedimi. E io decido. Non scaricare direttamente in download. Chiedimi. E poi io decido. Magari vado in download. Magari vado da un'altra parte. Quindi una volta fatto questo. Quindi semplicemente attivata questa opzione. Quando scarico un nuovo file. Stavolta prendo il numero 7. Tasto destro. Scarica. Dove scarica. Il computer dovrebbe chiedermi. Mi dice ecco qua. E viene fuori come il salva con nome. Salva con nome. Quindi quando scarico un file è come se salvassi. Quindi adesso dico. Ah ma questa cosa qui la conosco. Posso dargli il nome. E quindi posso scrivere. Esercizio. 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 Maggiolina. Perché magari quel nome lì non mi piaceva. Ne scelgo uno nuovo di mio gusto. Esercizio 7. Maggiolina. E lo vado a mettere. Ma questo qui. Lo voglio mettere dentro documenti. E lo metto dentro esercizi Excel. Perché questo qui è di Excel. Quindi scelgo io. Ho dato il nome. Scelgo la cartella. E poi salvo. Questo file va a finire direttamente nel posto giusto. Lo vedo qui. Se clicco qui lo posso usare. Ma lui è andato a finire in. Esplora file. Documenti. Cos'è che era? Esercizi. Maggiolina. Premo su esercizi. Maggiolina. Ed eccolo qua. Allora. Questo PC. Documenti. Poi abbiamo esercizi Excel. Eccolo qua. Esercizi Excel. Ed eccolo qua. Esercizio 7. Maggiolina. Ed è andato a finire nel posto che io gli ho dato. Quindi. Se io attivo in impostazioni avanzate e poi download. Guardiamolo perché così lo rivediamo ancora. Se io attivo in tre pallini impostazioni avanzate download. Se attivo questa spunta sono io a decidere dove scaricare le cose e che nome dargli. E questa è una grande comodità. Lo scaricamento automatico in download è fatto solo perché non lo sappiamo usare. Perché la maggior parte delle persone butta le cose dopo non sa dove le ha messe. E quindi dicono vabbè senti tutto in download. Così ti facilitiamo. Ti facilitiamo nel trovare le cose per un po' perché poi si riempie talmente tanto che non trovi più neanche le cose lì. Ma noi ci togliamo il problema. Te hai fatto così. Però se accendo questa spunta sono io a decidere. Ogni cosa che scarico la salvo in un posto dove pare a me. Quindi gli posso dare il nome eccetera. Facciamo un altro esempio velocissimo. Mi avete visto scaricare le immagini nei vari video per fare un po' i post di Natale eccetera. Da Pixabay www.pixabay.com Un sito internet dal quale si possono gratuitamente scaricare le immagini libere da diritti d'autore. Quindi io scrivo Christmas, eccolo qua Natale. E mi scarico un'immagine natalizia. Vediamo se arrivo. Accetto i cookie. Devo premere invio. Vediamo. Premo invio. Mi scarico un'immagine natalizia. Questa stella qua mi piace. Premo per scaricare. Dico download gratuito. Questa immagine è libera. Per usi commerciali l'attribuzione non è richiesta. Spero di essermi spostato giusto per farlo vedere. Faccio download. Scarica. E va bene non sono un robot. Quindi faccio tutto il giro che mi dicono di fare. Faccio download. E l'immagine adesso viene scaricata. Ma scelgo io. Ha questo nome strano. E caspita io lo chiamo Stella di Natale rossa. O Stella rossa. Stella rossa. E basta. Poi decido dove metterla. Lui qui mi propone gli esercizi di Excel. Perché è l'ultimo posto dove sono stato. E mi dico ma no sai questa la metto in immagini. Immagini. E basta. E poi salvo. E questa immagine la salvo direttamente al posto giusto. Mi risparmio il lavoro. Decido adesso. Ma non devo decidere di nuovo dopo. Quindi è tanto. Secondo me questa cosa è un vantaggio. Andiamo in immagini a vedere se c'è. E poi vediamo le vostre domande. Ciao Michele. Grazie. 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 Grazie infinite per l'uso della super chat. In immagini abbiamo detto. Immagini. Ed ecco qua la nostra stella rossa. Bella anche questa stella qua. Ok ragazzi. Allora faccio di nuovo la riga. Ho visto che avevate disegnato la riga prima. Per darmi modo di rispondere alle domande. Mi ero dimenticato di dirlo. Vedo i tanti mi piace. Di nuovo. Questo è un buon momento. Se hai un attimo di pausa. Se non lo hai fatto sotto premi sul mi piace. Iscriviti al canale se non ti sei iscritto. Attiva la campanella. E se mai in futuro vai a vedere abbonati. Allora. Adesso. Torno indietro sulla chat. E leggo un po' di domande. Quanto tempo abbiamo? Abbastanza. Allora. Vedo che avete scritto tanto. Ci sono tutti gli ok. Però non vedo la riga. Forse era troppo corta. Mi pareva di averla vista prima. Vabbè dai. Comincio da qui. E prendiamo qualche domanda. Ciao Daniele. Buon Natale. Da Adriana. Gianfranco. Auguri. Ok gli auguri ce li facciamo dopo. Rudy. Ciao Daniele. Sono Rudy. Come si fa a cancellare un file aperto in system? Non puoi. Se il tuo Windows sta usando quel file. Non lo puoi cancellare mentre lo sta usando. E vorrebbe anche dire che se lo cancelli poi dopo se gli serve ti trovi in difficoltà. In quel caso dovresti accendere il computer con un sistema operativo diverso. Una pennetta che avvia il computer in Linux o in qualcosa d'altro. Che lo avvia prima di Windows. In modo che tu possa cancellarlo prima che venga utilizzato. Oppure avviare il computer in modalità provvisoria. Perché magari quel file non viene utilizzato. E quindi lo puoi cancellare prima che te lo chieda. Però se il tuo computer lo chiede. Se tu glielo cancelli quando lo accendi. Dopo ti dice file non trovato. Magari non si accende più. Magari non va più avanti. Quindi attenzione alla situazione. Poi saluto Alberto. Ciao Alberto. Ciao Maurizio. Che anche lui ci fa gli auguri. Grazie. Anima Blu. Buonasera a tutti. Poi Giuseppe dice Scusa Daniele. Volevo chiederti gentilmente. Perché ogni volta che salvo con nome un file con Word. Le volte successive me lo va a salvare con nome. Secondo me non è normale. Ti ringrazio. Allora Giuseppe dovrei vedere. Per poter rispondere a questa domanda. L'avevo vista anche via email eccetera. Nei commenti. Ma non si capisce bene il concetto. E quindi non ti so aiutare. Dovresti vedere i video che parlano dell'estensione del file. Però non mi ricordo dov'è. Ne abbiamo parlato talmente tante volte in tanti video. Non mi ricordo dov'è. In uno del corso base. Ne abbiamo parlato recentemente dell'estensione del file. Ed è un approfondimento. Quindi ti suggerirei questo. Sto andando sul sito Amici di Maggiolina. E dunque sito Amici di Maggiolina. Corso Computer. Eccolo qua l'ultimo. Così lo troviamo velocemente. E quando abbiamo parlato del salvataggio dei file. Allora la barra, il tasto destro eccetera. Adesso qua c'è la tempistica e quindi si legge anche male. Affiancare le finestre. Ne abbiamo parlato varie volte del salvataggio. Usiamo là i tasti. Vediamo un po'. File, cartelle. Poi ci sarà anche il salvataggio. Comunque se ti guardi. Ecco qui salva e salva con nome. Il formato dei file. Ecco l'11a. Ti consiglio di guardare il video 11a. Perché secondo me leggendo quello che mi hai scritto qui. Quello che mi hai scritto dall'altra parte eccetera. potrebbe essere lì l'inghippo. Però senza vedere non riesco a capire cosa può succedere nel tuo computer. E cosa stai facendo di sbagliato. Non è il caso di dire sbagliato. Ma di diverso. Prova a guardare quel video lì per vedere se ti chiarisce le cose. Poi se ti va magari scrivimelo. Così mi rendo conto che ti ho dato l'indicazione giusta. Poi saluto. Rosa. Rosa Maria. Ciao. Se salvo qualcosa in documenti. Come faccio a cambiare destinazione? Ad esempio sul desktop o viceversa? Beh quello lì l'abbiamo fatto nell'ultimo video. Proprio questo. Dove è? Come salvare nella cartella giusta. Quindi questo è il video giusto. Per salvare direttamente nella cartella giusta. Se l'ho già salvato. E non voglio da un'altra parte. Lo devo spostare. Quindi vado in esplora file. Vado in documenti. E mi dico. Caspita. Dov'è qui? Gli esercizi maggiorina dovevano andare in esercizi Excel. Non va bene. Come lo sposto? In vari modi. Uno potrebbe essere. Per farla facile facile. Così. Lo sposto qui. Momentaneamente. Poi vado in documenti. In esercizi Excel. Lo prendo e ce lo butto dentro. E questa è una soluzione. Oppure intanto vedo una super chat. Salvatore. Ciao Salvatore. Grazie. Grazie infinite delle tue super chat. Arrivano sempre. Grazie. Grazie infinite. Oppure. Ortofrutta. Lo voglio rimettere. Cos'era? Esercizi maggiorina. Ok. Allora. Ortofrutta. È il mio file. Se vado qui in documenti. Premo qui. Vedo che c'è esercizi maggiorina. Quindi prendo ortofrutta. e lo porto sopra esercizi maggiorina. Facendo attenzione alla punta che sia posizionato giusto. Lascio andare. Fatto. Se vado in esercizi maggiorina. Lo trovo lì. Certo ci vuole più precisione. Perché se qui sbagli. La prima volta. 90% delle persone sbaglia. E poi non lo trova più. Se qui sbagli posizione. Non lo trovi più. Se non vedi dove è andato a finire. Non lo trovi più. Quindi ok. Si fa. Quando si è pratici. Quando si capisce che è la punta. E non l'iconcina. A fare la differenza. A dare la destinazione. Si riesce. Ad esempio. Se qui vado in ricette. C'è scritto. Sposta in ricette. Io vado. Questo lo voglio che vada in un dolci. Sposta in dolci. Lascio andare. E questo file è andato in dolci. Da qui posso andare a prenderlo. E dire. No ma l'ortofrutta qui è un esercizio di Excel. Prenderlo. E rimetterlo. In esercizi Excel. Sposta in esercizi Excel. Ok. Se invece devo salvare direttamente in una cartella. È semplice. Però ti invito a guardare questo video. Perché abbiamo fatto un video con tutto il discorso. E quindi vale la pena di vederlo lì. Numero 15. Corso di computer 2022. E lo trovi sul canale Maggiolina. Allora. Poi vedo che abbiamo ancora tempo bene. Stiamo vedendo. tre tutorial. Dice. Con cosa hai creato il sito con Google Site. Il sito amici di Maggiolina. E il sito ufficiale pubblico che è www.associazionemaggiolina.it l'ho creato con Google Site. Perché è gratis. E perché non sono un genio del creare i siti. E questo diciamo che mi piace come estetica. Non devo inventarmi chissà cosa io che non ho la fantasia giusta. E' semplice da fare. Da gestire. Mi è piaciuto. E quindi eccolo qua. Google Site. Se cerchi Maggiolina Google Site. Vedi anche qualche video in cui lo faccio. E' semplice. Se ci sono riuscito io. Ci si può riuscire. Perché è proprio semplice. Allora. Poi Nadia. Ciao Nadia. Benedetto. Ho guardato il video. Anche se riesco. Anche se riesco a fare videoconferenze. Grande. Grande Benedetto. Ciao Antonio. Che fa gli auguri. Ciao Italo. Allora. Videoconferenza. Mentre in tv gioca il Milan. La vedrò registrata. Molti auguri a tutti. D'accordo Italo. Ci sarà registrata. Non ho presente le partite di calcio. Anche perché tutti i giorni ce n'è una. Però certo. La vediamo in registrata. Eccetera. Poi Michele. Vabbè. Ha ritirato il messaggio. Emanuela. Ciao Emanuela. Yolando. Ciao Daniele. Buona serata a tutti. E tantissimi auguri. Ciao. Ciao Yolando. Ciao Valeria. Ciao altro Michele. Liborio. Mi dice. Buonasera. Sono da poco iscritto al canale. Sei un buon insegnante. Grazie. Grazie infinite Liborio. Giuliano. Buonasera a tutti. Ciao Giuliano. Numero uno. Fanti avrei scritto. se avessi scritto in chat. Emanuela. Tanto gli auguri di Natale. Rosa Maria gli auguri di Natale. Certo dopo ce li facciamo tutti. Alex dice. Sera Daniele. Dove. Dopo un tipo di virus. Dice. ho messo un antivirus e presto prendo una VPN. D'accordo. Quindi ha preso provvedimenti perché il suo computer funzioni al meglio. Maria Giovanna. Ciao Daniele. Grazie per le tue chiarissime lezioni. Buon Natale a te e a tutti. Sto facendo il passaparola. Bravi. Fate il passaparola. Metto il mi piace. Mi iscrivo al canale. Guardo gli abbonamenti. Mi sostengo. Eccetera eccetera. Grazie infinite. Ma fate anche il passaparola. Quello forse è quello che conta più di tutti. Nel senso. Lo dico amici parenti eccetera. Lo dico dappertutto. Perché alla fine. Conta. 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 Quindi brava. Grazie. Grazie infinite. Ernesto. Ciao Daniele. Buonasera a tutti. Alex. Provate. una cosa anteprime immagini. Poi lo proverò. Alex lo mostrerò dopo averlo provato. Ciao Mario. Daniela. Tantissimi auguri. Sergio. Tanti cari auguri. Il nostro impagabile maestro. Grazie Sergio. E mentre invece Daniela faceva gli auguri a tutti. E quindi di serena festività. Aldo. Ciao ragazzi. Piggiate sui mi piace. Bravo Aldo. Poi Tosambo 1. Tanti auguri. Un grazie a te di cuore. Ok. Da un alunno. E poi cita l'età. Umar. Ciao. Mario. Ciao. Poi vediamo Cristina. Ciao Cristina. Ciao Ambrogio. Teodori. Teodomiro. Dice. Ciao a tutti. E a tutti. Buon Natale. Grazie Daniele per queste lezioni. Da cui sto imparando a riorganizzare e creare le mie cartelle del tablet. Magnifico. Grande che riesci anche a gestirti sul tablet. Poi Sergio ci saluta. Francesca. Vediamo se c'era qualche domanda. Daniele consiglieresti a qualcuno di passare a Windows 11? Dipende dal computer. Però sì. Windows 11 lo uso ormai da più di un mese. Mi trovo molto bene. Devo dire che adesso ho un familiare che deve comperarsi il computer. Windows 11. Gli altri non li guardiamo neanche. Non perché non vadano bene. Vanno benissimo. Ma perché i prezzi sono lì. e Windows 11 tra sei mesi sarà lui. L'anno prossimo sarà lui. Quindi sì. Se il mio computer può aggiornarsi a Windows 11. Perché me l'ha detto lui? Perché? Sì. Windows 11. Se ne faccio un uso super professionale del computer. Perché se ne fai un uso super professionale lo sai già. Che è meglio che ti tieni quello di prima. Perché allora hai le competenze per dire. No no. Non stiamo a fare pasticci. Funziona bene così. Tengo questo. Se sei un super giocatore e quindi giochi di simulazione. Hai del super hardware. Cioè un computer veramente tosto. Non passerei a Windows 11. Magari non oggi. Magari più avanti. Perché adesso ho massime prestazioni. Il Windows mi interessa fino a un certo punto. Devo giocarci. Devo lavorarci a livello professionale. Quindi quando va sono a posto. Ma per tutti gli altri sì. Windows 11 andiamo avanti. Se invece il computer non ce la fa. Non si può aggiornare da solo. Eccetera. Pazienza. Non succede niente. Mi scoccia un po'. Perché capisco. Però no. Continuo così per farlo andare bene. Ad esempio se il mio non si fosse aggiornato a Windows 11. Mi avrebbe dato tanto fastidio. Perché insegno computer. Quindi l'anno prossimo. Tutti hanno Windows 11. O tanti hanno Windows 11. Possono farlo vedere. No. E quindi mi avrebbe dato fastidio. Per fortuna si è aggiornato a Windows 11. Francesco. Ah ecco era lui che chiede con gli sigli resti. Poi è un genio. Ciao Daniele. Ma se il disco è rotto. Si possono recuperare i dati. Quindi se prima parlavo del computer di mio figlio. Magari che non si accende più. Se il disco è rotto. Non è tanto facile. Nel senso che il fatto che non si accenda. Di solito non ha niente a che vedere con il disco rotto. Ma i dischi si rompono. Se il disco è rotto e non funziona. Quando tu lo attacchi non va. Quindi non recuperi i dati. O se si accende a salti recuperi qualcosa ma ha male. Quindi in quei casi ci sono aziende specializzate. Che lo smontano e recuperano delle cose. Non sempre è possibile. Però fanno tanto queste aziende. Però costa anche dei soldi. Quindi nel momento in cui senti la spesa. Ti rendi conto che quelle cose magari non ti interessavano così tanto. Però si può provare. Dipende da come è rotto. Certo se ti è caduto il computer mentre passava un'asfaltatrice. C'è passata sopra. La vedo dura. Però dipende da come è rotto. Allora poi vediamo un po' Federico. Mi dice grande Daniele. Come sempre ottimi consigli e dritte. Grazie. Allora Roberto. Ciao Daniele. Con l'arrivo del Natale. Chissà se ci porterai qualche tutorial su Mac. Tantissimi auguri. Dipende Roberto da Babbo Natale se passa con un Mac a darci una mano. Ma secondo me il Babbo Natale dei Mac ha preso già un'altra strada anche quest'anno. Però non si sa mai. Mai dire mai. Però mi piace sapere questa cosa. Quindi vediamo. Magari Mamma Mac dice. Ma sai che la aspettano Babbo Natale? Chi lo sa. Allora poi Elena. Ciao Elena. Francesco. Cosa ne pensi della piattaforma portable apps? Non lo so. Non l'ho ancora usata. Non posso esprimermi perché non la conosco ancora. Daniele. Buonasera a tutti. Buone feste da Reggio Emilia. Francesca. Ma allora quando riuscirò a passare a Windows 11 potrò avere anch'io il disco D? No. Il disco D è una cosa hardware. Nel senso che nel computer che c'è anche il disco D ce ne mettono dentro un altro. C'è un disco C e poi ne prendono un altro e ce ne mettono dentro un altro. Ce ne sono fisicamente due. Non è vincolato a Windows 10, Windows 11, Windows 7 eccetera. Tutti i computer idealmente possono avere due o tre dischi. Di solito ce ne mettono due. Però non è detto. Quindi potrei simulare. Potrei dire. Caro il mio computer. Hai un disco C da 500? E adesso lo spezzo a metà. Ne hai uno da 250 e uno da 250. Non ha tanto senso. Si fa per certi motivi. Non guadagno niente perché il disco comunque è sempre uno. La somma dello spazio è sempre quello. E quindi non ha tanto senso. Ma si può fare. Ma per avere un vero disco D, quindi a tutti gli effetti, per tutto l'uso che ne abbiamo detto prima, sposta i documenti di là eccetera, va messo dentro. Quindi se è un computer fisso, si apre e si mette dentro facilmente. Se è un computer portatile, no. Di solito adesso i computer portatili magari un po' datati, che hanno il lettore DVD, si toglie il DVD e tramite un adattatore si mette un disco D. E allora si può avere un disco in più. Però di solito così. Se il portatile nasce così e resta così. Michele. Se non si accende il PC, posso togliere l'hard disk inserendolo in un altro per recuperare i dati? Assolutamente sì. Questa è una cosa assolutamente che si può fare. E lì vedi subito se va, ma va. Se non si accende è difficile che sia anche l'hard disk andato. A meno che non ci sia stato uno shock elettrico, che ne so, è accaduto un fulmine, ti ha bruciato mezzi elettrodomestici di casa, compreso il computer, allora potrebbe aver preso dentro anche il disco interno del computer. ma secondo me te la cavi. Allora, Francesco. Daniele, lo sapevi che se rinominavi il file, eccetera, e fai una copia del CMD e lo rinomini, puoi avviare il CMD nella Login Screen e poi puoi avviare Explorer X e potrai usare il PC nella log? No, non lo sapevo. Non posso dire di saperlo neanche adesso, nel senso che mi serve un po' per macinare questa informazione. Grazie. Allora, Alex, vabbè, sta parlando di un altro servizio di nuvola. Ok. Poi, buavie, Giuseppe, poi come giusto mi dice sempre Giuseppe, sinceri auguri, anche a te Giuseppe. Giulio, ciao a tutti, fai gli auguri. Francesco, c'è una voce su Chrome e su Chromium Based che ti dice dove vuoi salvare i file. Quindi non fa la domanda, è un'affermazione, non c'è il punto di domanda, che è quello che abbiamo visto prima. accendo il check per dire chiedimi dove voglio salvare questi documenti così che io poi decida di volta in volta. Poi, Daniele, ciao Daniele, spostando le cartelle di sistema sul disco D, se faccio un ripristino sul disco C, mi si cancellano anche sul D visto che sono collegate in parallelo, secondo me no. Non ho mai provato, quindi dovresti provare, ma secondo me no, perché il ripristino sostituisce i file del disco C, quindi sì, ti ripristinerà tutto, ti troverai le cartelle del disco C, quindi le cartelle documenti, eccetera, nel disco C, ma il disco D non viene toccato in fase di ripristino, quindi poi non saranno più collegate, ci sarà un po' di pasticcio, presumibilmente, però i tuoi dati dovrebbero rimanere. Non ho mai provato, ma secondo me funziona così e penso di non sbagliarmi. Allora, poi Franco, ciao Daniele, posso spostare dal disco C al D anche GIMP o soltanto i file? Grazie e auguri. Allora, questo è un discorso interessante, non posso spostare un software, raramente posso spostare un software, solo i software portatili, quelli che non hanno bisogno di installazione, quindi quelli dove scarichi una cartella, ogni dove la metti lui funziona, allora la puoi prendere dal disco C e metterla nel disco D, non è il caso di GIMP. Se devi spostare GIMP, lo devi disinstallare dal disco C e reinstallare nel disco D. I file, quando tolgo un programma, non vanno persi, quindi se io ho creato un sacco di immagini con GIMP, ma GIMP lo tolgo, le mie immagini restano sempre, i miei file di lavorazione di GIMP restano sempre, in attesa del giorno in cui io rimetterò GIMP. Quindi se poi GIMP lo metto sul disco D, lo reinstallo, ma in disco D, c'è qualche video in cui abbiamo fatto questa cosa, ora non mi ricordo più dove, torna a funzionare tutto come prima, perché GIMP adesso esiste e quindi funziona dal disco D. e quindi ne parleremo anche in questo corso, perché l'installazione del programma è una cosa importante che vedremo anche qua. Francesco, consiglieresti qualcuno di usare Windows 7 nel 2022? No, se non quel qualcuno ha solo quel computer e non ha soldi da spendere o non vuole spendere soldi nuovi, certo ti usi Windows 7 e va ancora bene, però io mi vedo che se adesso accendo il mio computer con Windows 7, se lo tiro fuori da sotto la libreria dove sta tenendo su le cose, no, a parte gli scherzi, no, non riesco più a starci davanti, cioè lo accendo e mi viene freddo subito perché ci implica troppo ad accendersi, perché non è più lui, però funziona ancora egregiamente e se il computer è ancora quello di allora e se è pulito, eccetera, ha ancora la stessa velocità, però se devo mettere un certo software magari non è più compatibile, se devo attaccare certe cose nuove non sono più compatibili o certe cose non le fa perché se il computer ha un Windows precedente ha anche un hardware del tempo e quindi gli manca un po' di potenza, quindi no, dico sinceramente che farei fatica a comprarne uno con Windows 10, adesso che c'è Windows 11 e che è già da un mesetto che uso Windows 11, uso ancora Windows 10 come vedete nel mio computer virtuale, questo che sto usando, ma dopo il tempo passa e le cose nuove piacciono sempre di più insomma e quindi se me lo regalano e se non ne ho un altro allora ci può stare. Allora, poi Silvana, buonasera Daniele, tantissimi auguri di Buon Natale, grazie Silvana, Francesco, sta parlando con altri, ancora Francesco, Daniele consiglieresti a qualcuno di usare un altro software, non lo conosco, quindi non ti so dire, Gabriele, ciao Daniele, ho sistema Windows 10, posso installare Windows 11? Grazie a tanti auguri, buone feste, non c'è il punto di domanda, non so se mi stavi dicendo lo posso fare o se mi chiedi, dipende, se mi stai chiedendo, dipende dal computer, non tutti Windows 10, non tutti i computer con attualmente Windows 10, seppur recentissimi, sono in grado di supportare Windows 11, motivo per cui, quando guardavo il computer per questo familiare che si deve prendere, va in negozio, chiedo, ma un computer con Windows 11? Non ce n'è neanche uno, perché li hanno venduti tutti, ci sono questi, con Windows 10, ok, ma possono passare a Windows 11? Eh, non si sa, quelli certificati li abbiamo già venduti tutti, adesso ci sono questi, magari sì, ma magari no, chi è che spende 800, 900 euro, o 500 euro per un computer che non so se mi passa a Windows 11, lo prendo nuovo e ha già un sistema operativo passato? Ancora attuale, ma tra sei mesi sarà ancora così e quindi non lo so in sostanza e non si può sapere se non provi fisicamente, cioè non è che dico vabbè dai lo compro e poi vedo, o vedo mentre sono lì, perché è una storia lunga e quindi non è automatico che tutti i 10 possano passare a 11 meno del solito, cioè in passato da 8 a 10 praticamente tutti passavano, ma da 10 a 11 no, c'è stata una bella scrematura e quindi non lo so. Gabriele dice Daniele ho sistema operativo Windows 10, vabbè, è la domanda di prima, e c'è un video in cui ne parliamo di questa cosa, in cui vediamo se scrivo Windows 11, magari vedi anche quel video, così puoi capire da solo se puoi andare a Windows 11 oppure no. Windows 11, vediamo, ce ne sono diversi in cui abbiamo parlato di Windows 11, quindi ti consiglio di dare un'occhiata e guarda, ne abbiamo fatti diversi e di renderti conto se puoi farlo o no, cioè se puoi farlo è semplice, se non puoi farlo invece no. Allora, mi fermo qua con la chat, la aggiungo all'altra per poi andare a rispondere alle domande in un secondo momento, perché adesso siamo pronti per farci gli auguri finali. Allora, copio la chat, passo al mio Windows 11, vado a fare il blocco, a prendere il blocco note che ho messo qua, incollo la chat e la salvo, file, salvo con nome, eccezionalmente sul desktop, così desktop, così ce l'ho, che in bella evidenza dico devo fare quella cosa così la posso, poi lo posso togliere. Allora, chat, oggi abbiamo detto che è il 22 dicembre, dicembre, e andrà vicina a quella del 15 che ancora non ho potuto lavorare. Bene, ragazzi, allora, questo è il primo momento auguri, il momento auguri in questa diretta, poi l'altro ce l'avremo alle 21, questa sera alle 21 dal sito Amici di Maggiolina se avete tempo vi aspetto, e quindi tantissimi auguri di Buon Natale e di Buone Feste, poi avremo tempo di vederci ancora durante le feste, però adesso l'imminente è il Natale, quindi tanti cari e sinceri auguri di Buon Natale a tutti i ragazzi, perché spero che sia un bel Natale per tutti, per tutti gli amici di Maggiolina, ma per tutti, per tutti anche quelli, le persone che non ci guardano, e un augurio veramente veramente di cuore e basta poi adesso vediamo vediamo tutto e ci vediamo alle 21 questa sera. Ci fermiamo qua, quindi di nuovo tanti 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 auguri di Buon Natale e arrivederci a presto. Mercoledì prossimo 29 mi sembra saremo in diretta come al solito 29 sì, mercoledì 29 in diretta come al solito sempre alle 18 sto andando a cercare la schermata dei saluti. Ciao ragazzi, buona serata. a cercare Grazie a tutti.